è difficile prendere delle decisioni a un certo punto nella vita di una persona non mi sono mai fermato a pensare come fosse la mia vita e io sono in generale sempre scontento di me stesso questo è un ricordo che dopo circa 25 anni mi accompagna ancora infatti ho gli occhi un po lucidi scusate ci sono tante cose che cambierei della mia vita in questo momento credo sia la cosa più bella che ho visto